Vi siete accorti che la frutta non ha più sapore? Vorreste sulle vostre tavole un cibo più sano? La quantistica molecolare SMT in aiuto all'agricoltura sostenibile. L'attenzione al mondo agroalimentare rappresenta oggi uno snodo necessario per garantire le vie di una vera ecosostenibilità attraverso le innovative frontiere della fisica quantistica agronomica, per un nuovo umanesimo del terzo millennio ancorato ad una ritrovata connessione fra uomo e natura. Buongiorno, ciò che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è una tecnologia radicalmente innovativa, anzi rivoluzionaria per l'agricoltura, in grado di arginare l'incubo di pesticidi e agrofarmaci. Mi riferisco alla tecnologia SMT o supramolecolare, intorno alla quale Luciano Gastaldi, ricercatore indipendente in fisica quantistica agronomica, ha concentrato la sua indagine. Gastaldi si muove su due sfondi di pensiero scientifico, la teoria di Einstein sulla fluidità della materia, secondo la quale, prima della formazione della materia, c'è l'energia, e la chimica supramolecolare, area delle scienze naturali che si avvale delle acquisizioni di chimica, fisica e biologia e che deve il suo avanzamento al chimico francese Jean-Marie Laine, premio Nobel nel 1987. Jean-Marie Laine spiega che le molecole si trovano sì allo stato di entità singole, ma in una sorta di sociologia molecolare, interagiscono, si riconoscono fra loro e formano delle collettività. Le funzioni degli insiemi molecolari sono però diverse dalle funzioni svolte dalla molecola allo stato di entità singola. Un esempio ci viene dall'acqua. Una sola molecola di H2O si trova infatti allo stato gassoso e l'acqua diviene un liquido per effetto dell'aggregazione di più molecole. Gastaldi studia appunto gli insiemi molecolari in una ricerca che è trentennale, che ha incrociato anche gli studi di Giuliano Preparata e di Emilio del Giudice, e la sua scoperta consiste nella stabilizzazione delle lunghezze d'onda dell'acqua. L'acqua è un piccolo magnete. Sappiamo che può essere polarizzata, può ricevere delle informazioni tramite delle frequenze trasmesse per il fenomeno della memoria dell'acqua. Però l'acqua informata è instabile. Invece la tecnologia SMT stabilizza le lunghezze d'onda dell'acqua per un periodo prolungato, rendendo l'acqua funzionale ad una interazione significativa ed efficace con i processi del metabolismo delle cellule. Questo impianto teorico è stato sottoposto a sperimentazioni con le università e dopo un periodo di tre anni ha ottenuto il requisito della ripetibilità. È un evento ripetibile e non rientra più soltanto in una semplice generale casistica. Cresce il numero degli imprenditori che si rivolgono a questi nuovi metodi di coltivazione dei campi e è stato ampiamente dimostrato che l'acqua funzionale permette alla pianta di ritrovare il suo equilibrio naturale, di ritrovare la sua forza vitale originaria che il ricorso ai fitofarmaci ricaccia nell'inerzia. Gli esami chimico-fisici dimostrano che i prodotti delle piante trattate con l'acqua funzionale aumentano le qualità organolettiche e nutrizionali. Oggi si parla con ragione di carestia nell'abbondanza, perché i fitofarmaci riducono o azzerano addirittura i principi nutritivi dei prodotti, oltre ad essere causa di molteplici patologie oncologiche sia per gli operatori agricoli sia per i consumatori. Per portare avanti il suo progetto scientifico, Gastaldi collabora con il CREA, che è il consiglio per la ricerca in agricoltura del Ministero dell'Agricoltura, con l'Università Statale d'Annunzio, con la Regione Valle d'Aosta e con l'INAIL. L'ente nazionale sugli infortuni, lo scorso ottobre 2024, ha presentato la tecnologia SMT in Spagna, Santander, in rappresentanza dell'Italia, in occasione del Terzo Simposio Internazionale di Igiene Industriale. Inoltre Gastaldi collabora con Ippocrate.org nel progetto sulla sovranità alimentare, è autore di un libro scritto in italiano e in inglese uscito proprio in questi giorni, e l'Accademia Maharishkaya di Mosca lo ha nominato suo accademico e segretario. Io vorrei concludere citando Masaru Emoto, scienziato e poeta della memoria dell'acqua, secondo il quale l'acqua rappresenta un portale di conoscenza per l'umanità. In un suo testo dei primi anni 2000, intitolato La risposta dell'acqua, Emoto cita un astrofisico statunitense, Lewis Frank, il quale asseriva che l'acqua non ha un'origine terrestre, ma è stata portata in blocchi di ghiaccio dal cosmo per permettere il radicamento della vita sulla Terra. Questa ipotesi è stata naturalmente bandita, ma seppure brevemente, Emoto cita delle pubblicazioni, dei documenti della Università delle Hawaii e anche della stessa NASA che avvalorano l'ipotesi di Lewis Frank. Inoltre Emoto cita uno psicoimmunologo vietnamita, che è Juan Van Duc, il quale riformula, secondo una sua intuizione, la teoria di Einstein sull'energia. Einstein ci dice che l'energia è data dalla massa per C al quadrato e C rappresenta la velocità della luce. Juan Van Duc invece cambia i termini dell'equazione dicendo che l'energia è data dalla massa, ma la massa è costituita dal numero delle persone per C e C è la coscienza. Quindi l'energia è data dall'espansione vibrazionale della coscienza attraverso il numero delle persone consapevoli. Anche le nuove frontiere per l'agricoltura interpellano le nostre scelte consapevoli riguardo a scelte che siano veramente eco-sostenibili e non genericamente secondo uno slogan green. Grazie. Se questi contenuti ti sono piaciuti, condividi il post e seguici sui canali e social Amici di Ighina per non perdere i prossimi aggiornamenti.